Di seguito alcuni suggerimenti per l'utilizzo dello scaldapiedi Shatsu FWM50 di Boehrer. Attenersi alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze di sicurezza. Inserire il cavo di collegamento al centro del pannello di comando e l'alimentatore nella presa. Lo scaldapiedi è dotato di una funzione di riscaldamento e di una funzione Shatsu. Per attivare e disattivare la funzione Shatsu, premere il pulsante Massage sul pannello di comando. Per attivare e disattivare la funzione di riscaldamento, premere il pulsante di riscaldamento. Se la funzione è attiva, il LED rosso sopra il pulsante di riscaldamento si accende. Spegnere lo scaldapiedi dopo l'utilizzo e staccare l'alimentatore dalla presa. Lo spegnimento di sicurezza dello scaldapiedi interviene dopo 30 minuti. L'apparecchio può essere subito riavviato. Il rivestimento è estraibile e lavabile a 30 gradi centigradi. Lo scaldapiedi non è lavabile. Dopo aver scollegato l'apparecchio dalla rete elettrica, è possibile eliminare piccole macchie con un panno o una spugna umida. Vi auguriamo ottimi risultati con lo scaldapiedi Shatsu FWM50 di Boirer. Restate sani!